Sparatore nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Cava di Tirrenia, scatenarla un diverbio fra il padre di una persona ricoverata e il medico di turno, aggredito dal primo perché invitato a lasciare la sala d'attesa. L'aggressore una volta nel piazzale del nosocomio è stato avvicinato dal padre del medico che ha estratto la pistola e sparato alle gambe dell'uomo. Il ferito ha risposto prontamente al fuoco colpendo il padre del medico alla caviglia. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore che hanno prodotto un primo risultato, l'arresto del responsabile per porto abusivo di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate.